5 centrocampisti e 7 attaccanti da andare a acquistare per i vostri fantacalci al listone prima della dodicesima giornata di Serie A sono giocatori in rapporto ed apprezzo veramente straordinari il primo nome è Pellegrini, 19 crediti poi troviamo a 11 sia Zaniolo che Traorè concludiamo con Miranciuk a 10 e Baldanzi a 6 crediti continuiamo con gli attaccanti i primi tre nomi sono Ebram 24 crediti Berardi 23 e a 20 troviamo Duvan Zapata prima di continuare ti invito a lasciare un like e iscriverti al canale YouTube gli ultimi quattro nomi sono Jovic 16 Origi 13 destro 11 e completiamo con Petagnone a 8 crediti